ora ciao stai stai stai, faccio il ruolo vai andiamo stavano un giaccio oh dai però faccio morire oppure faccio continuare 34 seconde suon pushed e lento sono un nuove perciò vede quasi che manco un'ora vediamo se posso prendere io no basta posso fare un pochettino io vai tu va tanto già vai si pianta il narratore e allora noi lo continuiamo le prossime facciamo continuiamo tutti i minuti ormai corri da pulsante a pulsante da schermo a schermo i pulsanti numerati capito vai da una, due e tre fai un numero bravo, buono due due cazzo questo videogioco qua questo è dei potessi per la pinta risolta tu non sai quattro sono sopra o no qua c'è il 5 3 quattro sono sopra si allora qua c'è il 3 ah no non lo hai premuto 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 cazzo quanto manca no non te la so che scusate che stai prendendo ma è vero è una tragedia grazie chiudica ma l'ho premuto non è come me le ho scatto in casa non lo scatti non lo scatto aspettiamo sì ah no, esplode è serio lui cosa stuendo? stiamo facendo una segna stiamo facendo SIRUS SAM comunque male abbiamo appazzinato così tanto ma da un gioco complimenti signore noo vediamo un secondo è mezz'ora chiudiamo questo è tutto alla prossima